questa è una lezione di scienza allora se alluminio col cannello si scioglierà in maniera totale invece se è inox o comunque ferro dovrebbe diventare rosso e dovrebbe lasciare anche un po' di marchio benissimo procediamo all'esperimento il cannello a gas cannello a gas perfetto poco gas benissimo diventa rosso è proprio ferro non è alluminio è ferro ci confermi che è ferro linux insomma non è roba che soglie a 400 gradi magari facendolo col buio si vede più rosso si 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 vai 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 si vede si sta infuocando si 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 vede perfettamente non si scorda mai troppo bene questa sera fredde il ferro al contatto con la pinza un piccola rosso al bicione al bicione rossissimo si 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 è raffreddato un po' bisogna migliorare forse è ancora troppo caldo richiede